Sì, è una buona squadra che ci ha messo in difficoltà, però alla fine abbiamo portato a casa i tre punti, sono quello che conta e speriamo di continuare così. Sette punti in vetta, in coabitazione con un grandissimo Siena, però il Sansepolcro sembra esserci, soprattutto sembra recepire le indicazioni di mezzanotti. Sì, siamo solo all'inizio, tre partite abbiamo fatto il vittore e un pareggio, siamo lì con le favorite per vincere il campionato, noi puntiamo insomma a salvarci, non è che facciamo grossi grandi proclami, però siamo lì, ci diverte a starci e speriamo di starci il più lungo possibile. Il Sansepolcro non è dipendente da Ednan e Susi e lo ha dimostrato ieri. Il Sansepolcro gioca da squadra, non dipende da nessuno, non abbiamo in squadra un giocatore che può risolvere la partita, quindi siamo un gruppo unito, ognuno va in campo dando sempre il massimo e giocando anche per il proprio compagno che gli è vicino. Ecco, questo è il Sansepolcro. Detto che avete battuto bene in Rieti, però la testa è già alla gara con lo Spoleto, altra squadra importante, però ci sembra che il Sansepolcro sia in un ottimo momento di forma. Ma sì, dai, stiamo abbastanza bene, ora da domani penseremo allo Spoleto, intanto godiamoci questa vittoria, poi vediamo quello che viene a Spoleto. La partita è difficile perché là è un campo dove noi abbiamo fatto sempre fatica, quindi sicuramente la prepareremo al meglio per andare a vincere anche a Spoleto. Fatica anche perché c'è un pubblico estremamente caldo. Sì, dai, c'è un pubblico caldo, però giochiamo noi, quindi non gioca il pubblico, quindi siamo noi che andiamo in campo e non ci possiamo fare influenzare dal pubblico, anche perché quest'anno ne troveremo anche un po' più caldi. Dicevi, siamo insieme a quelle che dovrebbero vincere il campionato o a quella che dovrebbe vincere il campionato, perché tutti hanno indicato il Siena come la squadra effettivamente che dovrebbe fare un campionato, sì. Però non ci dimentichiamo che la Serie D è un campionato duro. Sicuramente per il Blasone il Siena è la favorita, però ci sono squadre forti come il Foligno, il Gavorrano, il Ponzacco, la Massese, sono tutte squadre insomma ben attrezzate per vincere. Poi in Serie D una sorpresa c'è quasi tutti gli anni, quindi il campionato è lungo, è difficile, è un campionato strano, quest'anno non vedo una squadra favorita, anche lo stesso Siena sicuramente se la dovrà sudare per vincere ovunque. Grazie a tutti.